CDBSS Così de botto senza senso Intanto voglio rispondere a chi mi ha chiesto se sto col covid Se ho il covid Sì ho il covid Ho testato ufficialmente Ho fatto il test in casa l'altro ieri Positivo Ieri sono andato in farmacia a farmi fare un test ufficiale E quindi in teoria ho anche il precetto Ho il... Comunque dicevo, allora Positivo Sintomi me 1-3-3-3, ah ecco Qui il 3-3 finisce l'isolamento Ho fatto il test ufficiale ieri E qui in Svizzera la quarantena sono 5 giorni Da quando hai i sintomi E puoi dichiarare di avere i sintomi Fino a 3 giorni prima del test Quindi ho fatto il test ieri, da quando hai i sintomi? Da 3 giorni prima Quindi ieri, oggi, domani Quarantena e da dopo domani posso uscire di casa Ehm... Quindi insomma Ho fatto ieri il test pomeriggio Solo oggi, sto tutto il giorno in casa Sarò anche domani, va bene così Poi io sono guarito Sono già benissimo Sono benissimo Tutti qui in casa abbiamo fatto il covid Al momento tranne il mio suocero Però tutti e sei gli altri abitanti abbiamo fatto il covid Cosa ne pensi delle polizze vita con un rendimento Che di fatto sono una forma di fondo pensione Mascherata dall'assicurazione Che lo sia una monnezza Magari è un'opinione più strutturata Rowandish Domanda difficile nel senso che mancano troppe variabili Nel senso se parli di Italia o di Svizzera? Parli di terzo pilastro svizzero Con policy linked Quelle monnezze tipo di Swiss Life Generali Ehm... Queste robe qua Oppure parli di altro Se parli di roba italiana non ne so Se parli di Svizzera Sì I terzi pilastri pensionistici Assicurativi Fanno schifo E l'ho parlato in tanti di quei... Anche in televisione l'ho parlato Se parli di Italia Non lo so A pelle A pelle sì Mischiare una polizza vita Con un investimento in genere Sono investimenti pessimi Per gente che non ha idea di come discernere E quindi Sono prodotti per gente Che non ne sai come si investono i soldi Matteo chiede Cosa ne penso di questo genere in Russia? Non ho una grande opinione Ho a pelle soltanto un fortissimo odio Verso Putin e chi lo segue Quindi spero in realtà Che esploda Che si apra un rift Spero che la placca oceanica si apra E tutta la... Putin e tutta la gente sua Tutti i suoi seguaci Caschino dentro una voragine Perché sono presi nel nucleo terrestre Quello spero Per il resto non lo so Non sto seguendo bene le vicende Mi piace che i mercati Facciano più male Dei mezzi Dei carri armati E l'economia russa sta andando giù Gazprom sta fallendo E se il resto del mondo Chiude i rubinetti economici E chiude lo swift Tu stai più fuori Che se ti fanno un embargo Come ai tempi Mi piace Mi piace questo potere del mercato Che un po' spaventa Però rende le guerre obsolete In un mondo globalizzato In cui la tua ricchezza come nazione Dipende da quanto collabori con le altre Metterti a fare le guerre Ti chiude E tu finisci Tu e le tue aziende finite E questo qui è un disincentivo Credo Spero lo facciano fuori Poi non sto seguendo molto Il personaggio di Zelezny Nel senso che mi sembra Vabbè è un attore Mi sembra sta facendo un bel lavoro Di branding dell'Ucraina Però io sto Cioè sto contro le invasioni Così a cazzo di cane Sto con il popolo ucraino Però magari potrei Con molti più dati Potrei cambiare leggermente idea La vedo difficile Ma Toxy99 La domanda è A quasi un anno dall'inizio Della carriera di youtuber Slash streamer Sei in grado di stilare Una lista di pro e contro Ma anche delle considerazioni In generale Sì 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 Sicuramente Pro e contro rispetto cosa Posso fare un'analisi Che è lunga In realtà in ogni In ogni live Che ho fatto Con dei content creator Siamo finiti anche A parlare di quello Nella live con Wesa Nella live con Immanuel Casto In quasi ogni live Che faccio Con gente che è Online Visibile Finiamo a parlare Di content creation Quindi Quindi Puoi recuperare Pezzi di miei opinioni A riguardo Se devo fare un po' Un riassunto Se no ci posso Stare due ore Su questo argomento E' poco interessante Tutti parlano Di meta Meta argomenti Come streaming E cose varie Riflessione così Un po' veloce E' che E' che E' qualcosa Che ti consuma Tanto Ti consuma Tanto Ma vengono fatte Le riflessioni Però sulla passione In generale Mi sento Che mi sta Consomando tanto Mi piace Però non so Forse anche uno Che si sfadi cocaina Ha le stesse emozioni Grazie Bisdo Anche uno Che si sfadi cocaina Magari dice Ah che bello Tante emozioni Però poi dopo Per cinque anni E' un cadavere Quindi magari Qua cosa di simile Non lo so Non hai esperienze Con nessun tipo di droga Quindi il concetto E' che Mi da tanto Mi piace Mi sento Abbastanza appagato Però E' qualcosa Che se hai Un briciolo Di creatività Ti vengono Molte più idee Di quelle che puoi Fisicamente implementare Quindi devi accettare Che hai delle idee Fighissime Che non le implementerai mai Per mancanza di tempo Tempo Le risorse ci stanno Volendo potrei Comprare materiali Le risorse ci stanno E' il tempo Dici Bella quest'idea Bella quest'altra Comincio a segnarmele E ogni settimana Entrano dieci idee nuove E ne produco due E quindi Nonostante produco tantissimo Mi viene da dire Cavolo Questa cosa è fighissima Non la sto ancora facendo Hai un continuo Non lo so Io poi ho un'abbondanza creativa Quindi ho Un continuo Consapevolezza Che non sto facendo Quello che vorrei Quella qualità che vorrei E poi ti senti In dovere Di far delle cose La gente ti chiede Quando è che fai La parte 2 di questo Quando è che fai La parte 4 di questo Quando è che riprendi Il podcast Quando è che Il tablerone Non lo fai Stasettimana Qui dici Oh vieni ragazzi Non è che sono Una testata giornalistica Cioè sono una persona E poi dici Perché sono Solo una persona Perché non assumo 5 persone E facciamo una testata Facciamo una roba Tipo Siamo online Tutto il tempo Mmm Affascinante Tutto una sorta Di questi tipo Di discorsi Tra me e me No Spingo con l'acceleratore Come non ci fosse un domani Oppure faccio quello che riesco Lo considero un hobby E così Oppure mi fermo E produco contenuti Di più alta qualità Con più tempo Voglio scrivere un libro Voglio scrivere Sto cazzo di libro Adesso non so più Anche se lo voglio ancora Perché sono mesi Che ne parlo Non ho fatto niente Dico vorrei scrivere un libro È un lavoro anche Più intellettualmente stimolante Che star sempre online Quindi Ho tante battaglie dentro Poi Per andare più nel tecnicismo Dello streaming di per sé Posso dire che Chi ha seguito Miei contenuti Anche testuali Oppure All'albori della mia carriera Da youtuber Streamer Parlavo spesso di The garden And the stream No Parlavo spesso Di quanto non mi piaccia Il concetto di stream Nel senso che È tutto un continuo presente Se non ci sei Sparisci Preferisco avere un garden Preferisco avere un mio spazio Con delle mie idee Che mai ogni tanto Faccio un upgrade Quindi levo un'idea Ne metto un'altra migliore Una sorta di wikipedia Del mio pensiero Che non ci sia Un flusso Ehi rip è online Adesso Quindi adesso È da consumare Quando è offline Non esiste Quindi lo streaming Principalmente sul twitch Ti incentiva A essere sempre online E essere intrattenitore Non educatore Quindi Ne possiamo parlare Per un per mesi Non è Sono più discorsi Filosofici Che altro Doltor È ancora possibile Fare consulenza Uno a uno Ne parlavo Oggi con I miei fedelissimi Ho ricevuto oggi stesso 3-4 email Di gente Ehi rip Voglio fare consulenza Visto che non si possono più pronotare Devo ancora rispondere Quindi Se sei Doltor E sei uno di quelli Che mi ha scritto Devo ancora rispondere Stasera Il fatto che faccio Rispondo a queste email Più le altre 50 A cui devo rispondere O vado online Vado online Quindi Però risponderò Alle mail Che mi sono arrivate Consulenza uno a uno Devo trovare la formula Grazie Sandero Grazie Le consulenze uno a uno Vorrei farle Ma solo A partire da un certo impegno In poi Cioè no Una singola ora Spot e poi addio Che è tipo il Il 60 70% Delle consulenze Che ho fatto Sono un'ora E poi ciao Mi frammentano Il tempo Ma quello Qualunque lavoro Ti frammenta E di per sé Un'ora alle cifre Che chiedo È il prezzo Il prezzo che ritengo giusto E mi sta bene La frammentazione del tempo Però spesso ci sta Un rimpalla Mail lunghissima E rip Questa è la mia situazione Pam 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 Posso prenotare la consulenza Quindi devo leggerla Rispondere Sì puoi prenotare la consulenza Poi dopo rimpalla Rimpalla Cambia l'orario Sposta questo Posso farti un bonifico Invece che per lì E quindi mi costa Un sacco di tempo Poi adesso sto anche Facendo le invoice Devo fare le fatture E tipo Non voglio fare consulenze Per un'ora Quindi o si fanno pacchetti O niente Al momento Al momento il prezzo Il prezzo dei pacchetti Che è esposto Sul mio sito Lo reputo ancora ok Quindi se uno è interessato Almeno un pacchetto Mi scrive E partiamo da quello Però in futuro Vorrei trovo un modo Un po' più Devo capire ancora bene Le consulenze Mi piacciono Però alla fine Mi portano un po' Di soldi Ma è un lavoro Che sento Che non è Della qualità Che voglio Perché Oltre al fatto Che hanno Un overhead Di amministrativo Non indifferente C'è anche Che se faccio Un'ora ciascuno Non mi ricordo Chi sei Se bucchi una seconda ora Fra un mese Non ho idea Di che ci siamo detti Una prima volta È faticoso Al momento Non ho molta testa E comunque Il costo opportunità È alto Perché in quelle ore Che faccio consulenza Le posso usare Per lavorare Su la mia startup Che mi pagano uguale E Ho anche equity Nella startup Quindi in teoria Non sono molto tentato A portarle avanti Ultima cosa Che voglio aggiungere Ho detto anche La volta precedente Vorrei farle Pro bono alcun Cioè ti vorrei fare Un pomeriggio Con consulenze Piuttosto gratis O a cifre simboliche Che si può permettere Chiunque Per aiutare La parte aiuto Voglio farla Non vorrei Diventare Lo snob Irraggiungibile Non sto creando Scarsifità artificiale Per alzare il prezzo E basta Vorrei alzare il prezzo Per chi se lo può permettere Però anche fare Qualcosa Per chi non se lo può Permettere Oltre che farle live Rispondere In diretta E Adesso poi Dirlo Sembra quasi Dire l'opposto Ma Se seguite Quello che faccio Difficilmente ci trovate Che io Nel rispondere Alle domande Lancio un hook Affinché uno Prenoti una consulenza E dico Ah ah Interessante Però questo qui Prenota la consulenza E poi te ne parlo Per cui in genere In live Mi do tutto Quindi se Se hai qualche domanda La fa in live Nel momento giusto E così via Dovresti avere un segretario Che filtra Infatti nel pensiero Di crescere C'è quello lì Ma adesso il segretario Ci sarà Perché Perché Abbiamo un Candidato segretario Che sta diventando Maggiorenne E che finalmente Finalmente Ha portato Ha portato il suo La sua presenza A monetizzazione Nel senso che Il canale delle clip È andato a monetizzazione E quello è lo stipendio Del segretario Plebs37 Giorgio Grazie per aver consigliato Il post di Linkedin Una marea di tuoi contatti Mi hanno scritto Per fare una call a scuola Ah sei tu Ottimo Sì E tra l'altro Anche un mio caro amico Pensava fossi universitario Ma quello lì È universitario Ho fatto Purtroppo un paio De li ho deviati Che potevano arrivare Grande bene Sono contento Sono contento Stavendo un bellissimo lavoro Stavendo un bellissimo lavoro Plebs37 Scusa il nome Non me lo ricordo Cavolo Non mi ricordo il nome Non mi ricordo il nome Giovanni Giuseppe Giuseppe Una cosa con la G Una cosa con la G Salvatore Giacomo Giacomo Te l'ho detto Che era con la G Insegna a scuola Scuole superiori E Ho partecipato A una call Con i suoi ragazzi È stato molto piacevole Molto interessante E quindi Grande Grande Ce ne fossero di più Di docenti come te Veramente Se le scuole superiori Avessero docenti Che riescano a uscire Da quel guscio Da quella brutta coltre Di struttura Che è quelle quattro mura Ma andassero online E cercassero persone interessanti E portassero più presenza online Diminorebbe il gap Tra scuola e realtà Perché io immagino Essere uno studente oggi È difficilissimo Cioè avere 18 anni oggi Magari stai in un ambiente Con professori Che sono del medioevo In un mondo In cui tu stai Stai così Stai seguendo Stai seguendo Uesa A scuola Mentre il docente Ti parla di Non lo so Di Cosa posso dissare Cosa mi è rimasto da dissare E lo immagino Il professore 55enne Che Non lo so Che chiede Mandatemi un fax Se volete comunicare con me Ma ragazzi Ma che cosa fanno Halcatz Halcatz Zero Halcatz Zero Ciao Giorgio Come va? Una mente come la tua Non sente mai Bisogna di staccare? Usi tecniche particolari Con la meditazione O altro? Grazie Sono solo Fede Mara Non tu no grazie Io spesso mi attacco Halcatz Zero Spesso mi attacco Alla meditazione Ma non ci riesco più di tanto Ultimamente Cerco di staccare Sento il bisogno Sento il bisogno Però sento anche la voglia Di essere presente Insomma Per cui Per cui È un po' complicato Non ho abbastanza dati Per questa roba qui Staccare da cosa? Staccare da cosa? Ho avuto Gli ultimi anni In cui lavoravo In aziende vere Che volevo Che ero In apatia totale E sentivo Quando torna Questa energia vitale Per far cose come si deve? Ora sto Carico E pieno di energia vitale Stanco Ma carico Quindi È complicato Staccare Staccare da cosa? Se stacco da qui Mi aspetta il lavoro Di là A pannolini E altro Quindi Non lo so Io vorrei staccare Un po' da tutto Tipo farmi una settimana Da qualche parte Una settimana Da qualche parte In montagna Da solo Vorrei veramente Ecco 48 ore Senza responsabilità Chiedo Per 48 ore Di essere Un ventenne Allora Ho un po' di domande interessanti Che volevo rispondere Allora Il Vasari Un'osservazione Un po' vecchia Sta domanda E mettendo un attimo Gli aspetti privati Da parte Hai sicuramente Sognato Questo periodo Da anni Suppongo Cioè licenziarti Metterti in proprio Consideri la possibilità Che tu stia correndo Troppo con le cose Se prendessi Un periodo X sabbatico Per semplicemente Riordinare E mettere il fuoco Su determinati punti Per il prossimo anno Potrebbe aiutarti? La rileggiamo Perché è poi Una bella domanda È interessante La risposta È complicata È complicata Ho troppe Cioè io non sono Una persona Io sono tipo Sono dieci persone In testa Quindi difficilmente C'è una domanda C'è una risposta Che ne mette d'accordo Tutte dieci Io ho dieci personalità Quindi La domanda è Snelliamola Rileggiamola Ristrutturandola Mettendo gli aspetti Privati da parte Hai sicuramente Sognato Questo periodo Da anni Suppongo Del tipo Licenziarti E metterti in proprio Sì Sì Anche se non sono Uno che è nato Con la mentalità Imprenditoriale Cioè non sono uno Che storicamente Aveva tutta questa voglia Di fare azienda Sono un po' Cagaso Un po' pigro So la fatica Che comporta Fare azienda Cioè so la burocrazia La fatica Quindi non sono uno Che volentieri Si mette a combattere Con commercialisti Con Invoice Con fatture Con Con aspetti Burocratici Con la ricerca Di clienti No Però ho avuto Partita IVA In Italia Nel 2010 2011 Snella Regime dei minimi Quindi Era ok Però sì Sognavo Il non avere più Un capo Se la domanda era Sognavi Non avere più Un capo Quello sì Poi cosa fare Col tempo libero C'erano tante cose Tra cui non soltanto Lavorare C'era anche il Voglio leggere Voglio giocare a board games Volevo non avere più Un capo Anche per Una volta ogni tanto Giocare a board games Non sta accadendo Non sta accadendo Perché adesso Non ho più Non è che non ho più Un capo Non ho più un capo Quelle 40 ore Su 168 a settimana 48 settimane l'anno Adesso ho 4 capi 24 ore su 24 365 I 4 capi Sono Moglie Figlia 1 Figlia 2 Figlia 3 Quindi ho tanti capi Tanti capi Quindi sognavo Questo momento Abbastanza E via Consideri la possibilità Che tu stia correndo Troppo con le cose Sicuramente sì Cioè sto Sto tirando Senza fermarmi Più di tanto A fare un piano A grandi linee Mi son detto Mentre non Decido bene Come affinare Come Mentre Mentre Non 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 Faccio un programma Serio Con i contenuti Che voglio Con la qualità Che voglio Mentre penso A questa roba qui Intanto Macino Macino quantità Cercando di metterci Più qualità possibile Ma voglio far quantità Anche Sta andando Come ritorno Sta andando molto bene Indubbiamente Sta andando molto bene Per Per il vicolo cieco In cui mi son messo Cioè Parlare in lingua italiana E fare E fare live stream Cioè per questi due Vicoli ciechi Quindi lingua italiana E fare le cose in live Che sono due vicoli ciechi Sto screscendo molto Probabilmente Sto quasi saturando La mia Quello che potevo fare Grazie Ago Cioè a questa In questa In questa duplice nicchia Sto saturando Vedo che il canale Non cresce più di tanto Non cresce più ultimamente Va bene così Va bene così Però ecco Sì sto correndo un po' troppo Non mi sono preso il tempo Per fermarmi E fare un piano So che se mi fermo Per fare un piano Poi finisco A riordinare To do In vari documenti A cambiare il formato Dei to do Corro il rischio Di andare in paralisi Analisi paralisi Quindi non vorrei mai Fermarmi per tipo Due mesi Poi sono due mesi A pensare Invece voglio Voglio fare Voglio fare Però dovrei trovare Un giusto bilanciamento Prendessi un periodo sabbatico Per ricordinare E mettere il focus Su determinati punti Per il prossimo anno Potrebbe aiutarti Sicuramente sì Sicuramente sì Potrebbe prendere Infatti ci ho quasi pensato Ragazzi Dipende di un periodo sabbatico In cui faccio soltanto Lavoro per start up Che mi paga bene E nel frattempo Riformulo La mia proposta online Però in realtà Poi però Poi però Non lo so Cioè io voglio far Cioè voglio Voglio fare le cose Che voglio fare Voglio fare tante cose Credo che la soluzione Sia in realtà Delegare molto E creare un team Magari anche Non lo so Io sogno Sarò stupido Ma il mondo streaming Il mondo youtube Tutti quanti Tutti quanti Single man show Single man Man intendo Men o women Whatever Sono tutti quanti Non c'è Non c'è un canale Diciamo Multi Multi persona Ma adesso Mi piacerebbe in realtà Partecipare a una sorta di Aggregato Con 3-4 Non lo so Un progetto Non è incentivante Il mondo streaming Non incentiva questo E non lo so Tipo Ma il cerebro Però sono tante persone Onnipresenti Quindi sono soltanto Più persone Che fanno fatica Allo stesso tempo Piacerebbe Portare un progetto Tipo Un curriculum Universitare Noi siamo Il corso di laurea Su twitch Di software engineering E aver 5 docenti Per capirci Una roba del genere Più che Fare live in 5 Sempre Tutti e 5 Tipo LTT The show Ok mi manca Magari qualcosa Che mi stai suggerendo Potrebbe aver senso Ma non conosco Non conosco Canali multiple Tipo Liberi Oltre Con capo assoluto Da Boltrin Tipo Liberi Oltre È un progetto interessante Carina come cosa Non riesco a seguirli Every Eye Forse Every Eye Esisteva già I tempi tipo Il 2008 Ricordo che Conoscevo un amico Che era tra i pezzi alti Non so neanche Non so neanche più Se sta ancora in Every Eye Il fatto che la vita Abbia un termine Di rattrista Quando pensi Che non potrai fare Tutto quello Che ti piacerebbe fare E questa si chiama Si chiama Crescere La conosco Quell'emozione Si chiama Crescere Io ho Gli anni che ho Però sì Quella si chiama Midlife Crisis Quando capisci Che Il tempo è scarso Dopo il vasare C'è un'altra domanda Che me l'ho segnato Un po' Di tempo fa Di qualche minuto fa Pass English Hai mai pensato Che il costo È forse un po' Elevato E le persone Tendono a trovare Nella prima consulenza La soluzione Alla vita Ma poi sono Restine Il continuare Perché temo Di spendere Una cifra importante Sì Assolutamente sì Assolutamente sì Sono d'accordo Sono d'accordo Però a costi più bassi A costi più bassi Non sono disposto A dedicare troppo tempo Tutto qua Cioè a me la start up Mi paga 175 Più rimborsi Più IVA L'ora Insomma Quello è il mio Costo opportunità E di lavoro Per la mia start up Ne ho più di quello Ne ho tanto Cioè potrei lavorarci Tantissime ore E ci lavorerò più ore Perché mi piace E perché Come dire Abbiamo finanziatori Ragazzi Novità dell'ultimo momento Ho due amici Che lavorano In Web3 Foundation E domani Incontrerò Il Head of Grants Il tizio Che si occupa Di dare dei grant Quindi potarsi Che il Polkadot Ci dà un grant In realtà stiamo Per decidere Di spostarci Su Substrate Per fare il nostro progetto E quindi potarsi Che Polkadot Ci darà un grant Hai qualche centinaio Di gappa Come dire Abbiamo soldi Soldi non ci mancano Abbiamo investitori ricchi Ci mancano persone Ora passiamo In realtà C'è chi mi aveva chiesto Aggiornamenti Ne abbiamo soldi Io Per fare il lavoro Che faccio Ho chiesto molti soldi Alla mia startup E mi son detto poi Bravo Te li do E quindi Ho costo di opportunità Molto alto Quindi far le consulenze A un prezzo Troppo più basso Di quello che Mi prendo Per lavorare Sulla startup Che mi piace Chi cazzo Me lo fa fare Primo Controrisposta Me lo farebbe fare Il fatto che voglio Comunque Cioè sto online Per aiutare persone Perché adesso Non sto lavorando Sulla mia startup Invece di star qui Mi converrebbe economicamente Però Non voglio Non voglio far solo quello Non ho lavoro Per lavorarci 100 ore a settimana Ma lavoro Per lavorarci 20-30 ore a settimana Se decidessi Di mettermi anche A implementar codice Vorrei lavorarci 100 ore a settimana Però Penso che sia Un po' troppo costoso Per la startup Che io lavori così tanto Quindi In teoria Vorrei lavorarci Quelle X ore A settimana Più alte Di quelle che faccio adesso E nello slot orario Che in genere Alloco Alle consulenze Quindi c'è un po' Un conflitto C'è un conflitto Però vorrei comunque Aiutare E quindi vorrei Magari lasciare Un pomeriggio A settimana In cui faccio consulente A un prezzo più basso Quindi chiunque Può bucarle Però subentrano Molti problemi Di program management Del tipo Se io liberassi Lunedì pomeriggio Per consulenze Da un'ora E tre slot Ogni lunedì pomeriggio Dalle due alle cinque E poi dopo Magari Ne so Fai a un prezzo simbolico A 50 Ma ci sono pure tanti Non lo so Qual è il prezzo Per cui non è tanto Non lo so Sono un po' come Quando a Bill Gates Chiedono quanto costa Un hamburger E fa Quanto costa un hamburger 100 200 Quanto costa Quindi non so A 50 euro l'ora Che al momento È tipo un quarto Di quello che chiedo Magari Supponiamo che Facessi consulenza A zero Consulenze gratis E quindi La gente Le bucche Se erano già buccate Fino al 2037 Non posso più Cambiare idea Se cambio idea E poi Se le bucca Tutte la stessa persona Come facci Quanto Voglio metterci Zero overhead Non voglio mettere Un sistema In cui io controllo Chi ha buccato E vedo se è già Prenotato E così via Ma le bucca Tutte la persona E poi se le rivende Se le rivende Al mercato nero Le bucca tutte quante Finco pallino E poi le rivende A 50 euro Come faccio A fare un meccanismo Che funziona Che tiene traccia Di chi prenota Che sia equo E non premi solo Chi è più veloce Non è facile Non è facile Potrei fare Tipo lotteria Potrei fare lotteria Comunque Stiamo parlando Troppo di meta Argomenti È poco interessante Questa live C'era qualche domanda Appunto Su come va Ok AgamennonX 56 ore fa Mi ha chiesto Hai già parlato Delle skill Che vuoi per collaborazione Che cerchi Dai parliamo di quello lì Niente Non riusciamo a fare Watch party stasera Parliamo di quella roba lì Allora Avevo annunciato Che oggi Forse pubblicavo qualcosa Anche sul LinkedIn Ma oggi è stato difficilissimo Vi racconto Prima di altre cose Io sto in quarantena Sto in isolamento Quarantena Da ieri Fino a domani Ovviamente Mia figlia Non sta andando a scuola E quindi Sto gestendo Anche mia figlia Una figlia grande E è impegnativo Cioè non è che ho proprio Il tempo di fare Oggi Per prendermi due ore Per fare cose Ho dovuto me piazzare Davanti alla televisione Per cui non sono riuscito A fare Ho solo risposto a mail Ho organizzato La call di domani Con Polkadot Con Uno dei boss Di Web3 Foundation E ho fatto altre cose Per la stagione Ho avuto poco tempo Ho fatto solo le cose essenziali Quindi se non ho ancora risposto A chi mi ha fatto domande importanti Tipo Consulenze Via mail E non ho avuto tempo Quindi Non sono riuscito a fare Questa sorta di annuncio Che farò domani No Perché domani È complicato Domani o pomeriggio Sono in live Con dei concini Da dei concini E sera Con dei concini A casa mia E qui E qui Piazzare Mia figlia Tanti alla televisione Sarà complicato Magari venerdì Se riesco Pubblico Sul linkedin L'annuncio Di lavoro Che vorrei Le skill Che cerco io Sono skill Per cui Sono skill Da intern In google Cioè se tu Se tu Riuscissi Ad essere preso Come intern In google O magari Un po' sotto Dai Se no vai direttamente Come intern In google Però se hai le skill Per entrare Come intern In google Come software engineer In google Intern Allora ti prendo Volentieri E E quindi Software engineering General cognitive abilities E software engineering Il processo qual è Devo ancora Devo formalizzarlo Perché se no Mi arrivano 200 mail Quindi E non posso Questo qui chiederà Nessuno di filtrare Per cui devo Assolutamente Gestirla io Sta cosa Quindi probabilmente Probabilmente E però vogliamo Anche essere veloci Non posso far passare settimane Quindi in realtà In realtà Mi piaceva prendere persone Possibilmente Laureate In informatica O ingegneria informatica Dunque persone Giove Bisogna avere Giove Bisogna avere Giove Intern Un internship Alla NFT chain Il piano Cioè sicuramente Abbiamo un anno Di tempo Per lanciare Il nostro Ma in realtà Volevo lanciarlo Più velocemente Un anno di tempo Per lanciare La nostra idea Quindi per un anno C'è startup Poi dopo Se le cose vanno male La startup Chiude Non è una roba Che dura all'infinito E Il processo di selezione Sarà Che io valuto Curriculum Faccio un colloquio Super tecnico Super tecnico Magari da Due colloqui Probabilmente Un primo colloquio Da un Tre quarti d'ora E eventualmente Un secondo Poi c'è il mio socio Il mio socio Tecnico Che probabilmente Farà anche lui Un colloquio E eventualmente Poi assumiamo Assumiamo No Non assumiamo nessuno Solo contractor Quindi non abbiamo Dipendenti La nostra startup Non ha dipendenti Quindi chi vuole Ci fa tour Cioè Paghiamo Consulenze Quindi partite IVA O società Dall'altra parte Non assumiamo dipendenti Ok E data la juniority Data la juniority Il nome non era segreto Sì Era segreto Data la juniority Lo stipendio Lo stipendio Che possiamo Cioè La contropartita Che possiamo andare Più o meno Pensavo Attorno ai 50k Anno 50k anno Quindi variamo Di 4k al mese Non sarà Lo stipendio Da google Però è un'opportunità Che voglio A un junior Una sorta di internship Credo che non sia Neanche così male Poi si lavora Lavori con me Magari finisce anche Che facciamo una cosa In live Non lo so Penso che sia una cosa carina Io magari Avessi trovato Una roba del genere E' ovvio che noi Al momento Stiamo cercando Persone più senior Per pagarle di più Però preferisco Prendere allo stesso prezzo 3 junior Visto che i senior Che stiamo cercando E che stiamo intervistando Sono delle capre galattiche Io 180k A un coglione Non glieli do Piuttosto Do 50k A 3 intern Forti Con l'obiettivo Poi insomma Che magari Domani Dopo un anno Se le cose vanno bene L'intern forte E li prende lui 150k E così via Penso che sia una cosa figa Non lo so Penso che sia una cosa figa Magari Sicuramente 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 Qualcuno Dirà che Eh però Parti da lì Va bene Chi 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 pensa Che stiamo sfruttando persone Va bene così C'è chi dice Ma l'internship Non si faceva Mentre fai l'università Sì Però infatti L'internship dura tre mesi Io voglio gente Che sta qui un anno Con noi Almeno Almeno un anno Cioè un anno di orizzonte Lo vorrei E quindi non voglio uno Che fa l'università Vorrei qualcuno Che è pronto a lavorare Magari Si possono valutare Però è complicato Anche soluzioni part time E così via Skill tecniche particolari Mi interessa Che sia gente intelligente Ripeto Alla Google Google non ti chiede Che tu conosca AWS Che conosca Non lo so Che conosca React No Stiamo al momento Decidendo Su che Su che piattaforma Su che stack Sviluppare Il nostro prodotto E Siamo Nell'ultima call Di lunedì Abbiamo deciso Di Lasciar perdere Il mondo EVM Quindi ethereum Roba del genere Ma vogliamo fare Una roba Cosmos SDK È la nostra idea originale In realtà Substrate Ci sta convincendo Per cui Probabilmente Faremo Cercheremo Cercheremo Il nostro Il nostro Socio Il nostro Socio Di maggioranza Investitore È tipo Tra i top Ten Holder Di dot E Ha un Seggio Nei 17 Che governano Il polka dot Quindi per ottenere Uno slot Parachain Sarà una passeggiata Quindi potrei Siamo ancora indecisi Da potenza tecnico Qual è la soluzione migliore Però Questo è per dire Che Se c'è esperienza E interesse Nel mondo Connesso A sviluppi Su Cosmos SDK O Substrate Che è l'infrastruttura Di polka dot È un plus Le conoscenze tecniche Sono un plus Ma per me pesano Il 20% Dell'application Nell'application Per me pesa Vediamo un po' Pesa il curriculum Pesa il pedigree Quindi quanto Esperienze universitarie Eventuali esperienze lavorative Ma non sono richieste Presenza pubblica Se c'è Pesa Se sei uno Che ha una pagina GitHub Spacchi Eventualmente Pesa in piccolissima parte Competenze In questo mondo Ma veramente In piccola parte Se andiamo su Se andiamo su Substrate Penso che il linguaggio Sia React Credo Ma cosa cercate Esattamente Frontend Backend Fullstack Anche lì Sono nomi che Non mi dicono niente C'erano gente intelligente Di norma Non c'è Ecco Se uno si definisce Frontend Engineer Difficilmente Mi interessa Cerco non frontend Cerco gente Che sa risolvere Problemi algoritmici Non uno che sappia Fa un sito internet Rip definisce Il concetto Intelligente Alto IQ General Cognitive Abilities Andiamo un po' General Cognitive Abilities Questa General Cognitive Abilities È la keyword Da 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 cercare Per Per definire La mia intelligenza Così via Ora Non ho ancora formalizzato Il come Non ho ancora formalizzato Il come applicare Non ho ancora formalizzato Non mi mandate Cold mail Specialmente se non ci siamo mai sentiti Se non ci conosciamo Non mi mandate una mail D'application La cestino subito Sicuramente se abbiamo interagito In qualche modo Se sei una persona Che conosco Che abbiamo interagito Che hai già mostrato Un po' di smartness Si dice È una parola È più probabile Che mi Che almeno leggo Leggo il curriculum Però da qui a breve Settimana prossima Ovviamente preparerò Delle job description Una job description Generica E così via Mi piacerebbe Non so A me sembra una cosa fighissima Poter Trovare 3-4 persone Diciamo 3-4 persone Nella mia community Con cui lavorare assieme Su questo progetto Invece di vendervi Il Il VPN Io vi do il lavoro Mi piace Mi piace Mi eccita Giorgio Secondo te quali sono le alternative Per dimostrare Le capacità che cerchi Al di là degli esercizi Alla lit code? Non lo so Che ne so Se avete raggiunto L'ultimo step attuale Nella mia caccia al tesoro È già un buon segno Se uno tipo Mi scrive qua A quale mail Posso mandare Il curriculum Già è un cattivo segno Non lo so Penso che Ci arrivate In realtà no Perché se non ci arrivate Non sapete che non ci state arrivando È un casino Cazzo di casino Richiederete anche Una sorta di esclusiva La risorsa Potrà avere altri lavori Ma mia risorsa Che brutta parola Beh In realtà In realtà Se parliamo di full time Mi interessa Che puoi dedicare 40 ore al mio progetto Se puoi riesci a avere altri lavori Certo Perché no Perché no Ovviamente Full remote Non lo so Mi interessa che ci sia Una certa Un certo impegno Benissimo Non volevo parlare solo di questo Però volevo parlarne In effetti Per cui ok Ammetto che ancora È fumoso Quello che cerco È fumoso C'è un po' di fumo Però vorrei mettere Un po' di ciccia E penso che Settimana prossima Mi dedico a A mettere giù Una job description A nasconderla Da qualche parte Che soltanto Chi è smart La trova E via Mister Ma quando arrivo Posso scrivere in chat Ma chi è sta zinnona Eh sarà tos Cazzo Adesso che mi ha detto Dovrò inventarmi qualcosa